Calcio di punizione per il Taranto come dicevamo, batte Monticciolo, palla in aria, colpo di testa di Prosperi in rete! Prosperi ha portato in vantaggio il Taranto con un colpo di testa magistrale! Gran gol di Fabio Prosperi che ha portato in vantaggio il Taranto, ci voleva un difensore per segnare un bel gol da attaccante. E con questo naturalmente vogliamo semplicemente esaltare le doti di Fabio Prosperi che va a realizzare il suo terzo gol stagionale. Fabio Prosperi ha portato in vantaggio il Taranto con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Monticciolo.